Venite avanti. Franco, non guardare in macchina. Buongiorno. C'è anche una bella acustica. E qua non ci troveranno mai. Buongiorno. 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 Scusi, lui non è che non vuole rispondere, che proprio non parla. E dimmelo tu che c'è la lingua, dove sta? Dove? Mi fa molto male. Signor Brigante, guardi, non è che noi lo sappiamo, però. Non sappiamo niente, se no ve lo diremmo, figuratevi. E tu che cazzo stai facendo con questa cosa? Anzi, riprendi, riprendi. Al cusino verrà pure la televisione. Ma voi non siete l'attorno della grangia? Voi passate uno brutto quarto d'ora oggi. Se non esce Maria Teresa... Ando sta Maria Perasa! Ando sta! Guardiù! Legate le corde ai rami! Ma che faccio in picca? Moverivo. Come andava? E' un po' che esagerate. Zitto! Perché si lo vado a casa? Faccio caso. Chi siamo noi? Noi siamo i vittiranti, combattiamo tutti quanti. Noi cerchiamo la vittoria per entrare nella storia. E cosa cerchiamo noi? A Mario Teresa. Marona che cazzone. Noi cerchiamo... La vittoria per entrare nella storia. Urrà! Ma va a fangolo. Asta la vittoria, sempre. Asta la vittoria, ma come? Non è tutto contaminato. Oh! E come stai? Un po' rimbombata. Ma non male che oggi stava calmo.